Le opere durano troppo, troppo tempo, non vengono programmate con le adeguate risorse finanziarie, molto spesso i progetti quindi devono rincorrersi, è il tema che hanno avuto tutte le opere pubbliche italiane, ma crediamo di aver svoltato finalmente, di garantire all'Italia un sistema di lavori pubblici come gli altri paesi europei. Sì, sicuramente saremo in prima linea e il nostro obiettivo sarà quello di fare in modo che le adozioni siano eque per tutti, che ci sia la possibilità sia per le coppie lesbiche e gay di adottare, ma anche per le coppie lesbiche e gay che già hanno bambini, di adottare bambino anche da parte del genitore non biologico, ma anche per i single, perché ci sono in Italia molte persone, anche come i single che hanno capacità di adottabilità. Tutto questo non deve spaventare perché passerà sicuramente tutto per il giudice e per i servizi sociali che caso per caso andranno a verificare la compatibilità. Dobbiamo sottolineare che già oggi ci sono in Italia decine e decine di bambini che sono stati dati in adozioni a singoli o a coppie gay perché si è rilevata la cosiddetta continuità affettiva che in base all'attuale legge dell'adozione lo consente. Però sono casi ovviamente molto limitati perché i bambini devono già essere in contatto con la coppia, in contatto con l'adulto, quindi già c'è una continuità affettiva, fanno parte della famiglia. Invece in questo caso ci sarebbe la possibilità di adottare anche per quei bambini che invece non hanno contatti familiari con nessuno e spesso rimangono soli. Perché è vero che in Italia ci sono più genitori che vogliono adottare rispetto ai bambini, però dobbiamo anche rilevare che molti dei genitori che vogliono adottare non accettano poi i bambini che vengono proposti dai servizi sociali perché molto spesso questi sono molto grandi o hanno delle loro problematicità e quindi ci sono ancora oggi molti bambini che stanno negli ex orfanotrofi che si chiamano case famiglia che purtroppo hanno sempre quella connotazione di orfanotrofi, c'è un luogo dove comunque non c'è una reale e propria famiglia per quei bambini. E quindi in questo caso sia i single che le coppie lesbiche e gay io penso che possano fare la differenza. Michi Vendola, come tante altre persone, ha anche i suoi diritti di vita personale e il suo desiderio di genitorialità. Quello che dobbiamo rimarcare per quello che riguarda la GPA, ossia la gestazione per altri, che volgarmente viene purtroppo chiamata autero in affitto, è che per le persone lesbiche e gay viene effettuata soltanto in paesi come il Canada e l'America, che sono paesi in cui ci sono leggi molto severe e dove non c'è alcun sfruttamento ma non c'è neanche nessun ritorno economico perché quelle cifre che girano sui giornali che la donna ha preso 30-40 mila euro come compenso in realtà non è un compenso ma è il mancato stipendio che quella donna ha preso perché le donne che fanno la GPA in quei paesi sono donne che lavorano, che hanno un proprio lavoro e hanno un proprio stipendio. Decidono liberamente di fare questo atto di amore, molto spesso sono anche coppie di lesbiche che danno una mano ad altre coppie gay e quello che gli viene pagato è il mancato stipendio che loro non ricevono per quei mesi. Quindi il guadagno non esiste perché se loro invece di fare la gestazione per altri continuassero a lavorare avrebbero lo stesso stipendio senza i problemi che una maternità può provocare. Quindi a questo punto di vista non c'è nessun sfruttamento, c'è una libertà sicuramente delle donne e il padre resta un padre biologico. Quello che invece viene spesso riportato dai paesi come l'India o altri paesi dove veramente le donne sono sfruttate per quei paesi gli omosessuali sono inibiti e quindi non è possibile che la gestazione per altri da parte delle coppie omosessuali avvenga e poi in generale come comunità lesbica e gay abbiamo anche un codice etico su questo e da quanto ci risulta nessuno ha cercato di farlo a parte che non era neanche possibile. Quindi rispediamo a Mittente queste affermazioni e a Nichi Vendola confermiamo gli auguri per il rinascituro a lui e al suo compagno Eddie e speriamo che le polemiche si prachino e che la politica non faccia polemiche ma faccia leggi. Le famiglie gay e lesbiche non le possono adottare per il semplice fatto che per adottarli dovrebbero già avere per l'attuale legge un rapporto di affettività col minore. Quindi se una coppia di lesbiche gay vogliono adottare un bambino se non lo conoscono già e non c'è già un rapporto affettivo con l'attuale legge è impossibile. Quindi è ovvio che oggi le uniche coppie che possono adottare sono quelle eterosessuali. Appunto per questo noi chiediamo che il diritto di famiglia in merito alla parte delle adozioni venga modificato e venga aperta anche ai singoli. In America l'adozione dei singoli è possibile dagli anni 70 e le ricerche e gli studi in tal senso dimostrano che gli effetti sono sicuramente positivi dal punto di vista sociale e anche nella crescita dei minori. Infatti i studi dimostrano anche che i minori cresciuti in famiglie omosessuali hanno le stesse caratteristiche di minori cresciuti in altre famiglie. Quindi da questo punto di vista non ci sono problematiche. Allora, sul maxi emendamento il testo tende a dare una serie di diritti che sono molto simili a quelli del matrimonio. Però ci sono delle differenze anche un po' fastidiose sulla parte sicuramente quella della mancanza di fedeltà che viene tolta, che da un punto di vista giuridico non cambia nulla, che però in realtà dà un senso di inferiorità alle coppie lesbiche e gay. E poi un'altra parte che manca è sicuramente tra le parti più importanti, che è quella della stepchild, ossia la possibilità di aiutare quelle famiglie che avevano già dei bambini e dare la possibilità che entrambi i genitori venissero riconosciuti. Questa parte della legge è stata stracciata, sappiamo benissimo che è dovuta ai vari problemi politici che ci sono stati ed era l'unica soluzione per portare una legge. Però sicuramente su questo punto di vista ci vede in prima linea nel lavorare per una campagna sulle adozioni e su una prossima legge che sia per le adozioni per tutti, anche per i single e per le coppie gay. Ma ecco, quello che vorrei dire è che dietro questa grande attività di rappresentazione del Rossini c'è stato un impegno di ricerca, diciamo pure, scientifica, come per pochissimi altri grandi compositori c'è stato. Credo che davvero il lavoro svolto dalla Fondazione, che è stato un lavoro di rilettura critica, filologica delle partiture rossiniane e quindi la messa a punto di testi da rappresentare nella loro assoluta attendibilità ha rappresentato qualcosa di pressoché unico e quindi coloro che si sono impegnati nella Fondazione vorrei ricordare come si impegnò con grande cultura e passione musicale il senatore De Sabata e voglio ricordare il contributo di altissima qualità professionale che ha dato il nostro Bruno Corgi poi diventato presidente dell'Accademia di Santa Cecilia ma che ha dato moltissimo alla non semplice celebrazione non rappresentazione ma al recupero pieno del patrimonio rossiniano credo che tutto questo veramente vada messo molto in evidenza è stato il retroterra fondamentale del più evidentemente frequentato e popolare ciclo delle rappresentazioni del Rossini Opera Festival ed è stato il retroterra anche del suo straordinario successo che ha costituito un punto di riferimento per le rappresentazioni di Rossini in tutto il mondo vorrei anche ricordare il cognome lo stesso e la stirpe la stessa e il contributo in epoca di cui parlo del senatore Fabri insomma in questo senso sono stato personalmente molto legato a Pesaro ricordo qualcosa di memorabile come fu una cenerentola non ricordo l'anno preciso ma fu uno degli spettacoli credo più belli che si siano dati a Pesaro e vorrei aggiungere che il contributo che hanno dato tutti i sindaci che l'hanno preceduta e lei stesso e che hanno dato i presidenti della regione Marche sono stati molto significativi di una qualità culturale del governo locale che non sempre è riscontrabile altrove questo centocinquantenario può essere davvero un'ulteriore grande occasione per rendere fruibile a grandi pubblici dell'opera di Rossini così rivisitata così rielaborata dal punto di vista filologico e può essere anche l'occasione di rappresentazioni brillanti e di successo comunque il fatto che questo disegno di legge che ha alle spalle il protocollo di intesa con la presidenza del consiglio abbia avuto adesione tra molti senatori e quindi penso sia avviato ad una sicura approvazione tutto sommato un esempio che poi il Parlamento non è così male come si dice Grazie Accanto alla regolamentazione delle unioni civili è tempo di recuperare anche il tema delle adozioni allargando la possibilità e le opportunità di adottare abbassando la fascia di età di chi vuole adottare tutelando le bambine e i bambini quindi chi è già in vita e vive in famiglie anche omosessuali Vorrei iniziare da dove è finito il direttore Orlandi cioè ringraziando tutti voi dipendenti, management, il direttore dell'agenzia per il lavoro svolto con estrema dedizione nonostante gli impedimenti e le difficoltà che hanno reso il 2015 un anno particolarmente difficile ma è stato anche un anno di grande successo e queste due cose messe insieme dicono molto se non tutto sulla qualità del lavoro di questa agenzia che di nuovo io vorrei ringraziare e unirmi alle cose dette dal collega Luigi Casero sul fatto che naturalmente questa debba essere la base per andare avanti fatemi Il problema sarà risolto adesso dobbiamo finire una serie di interventi che consentano il pieno utilizzo della struttura una volta che questi interventi saranno finiti avremo anche la possibilità di coprire anche le esigenze di organico No, niente come previsto a Bologna non è possibile che dopo due anni ci sia un intero palazzo occupato senza che nessuno si occupi il comune, il tribunale, le istituzioni e ci paghino pure le tasse non è normale ma non è normale occupare un'università se il professore ti sta antipatico non è normale bloccare le strade chiudere i negozi a Bologna di normale c'è poco i centri sociali continuano ad accoglierla nello stesso modo e prima o poi verranno chiusi questi ritrovi di teppisti poi se uno può essere d'accordo o non d'accordo per carità Dio però lo fa in maniera educata, pacifica non imbrattando lapidi, monumenti occupando università occupando palazzi qua c'è un diritto il diritto alla proprietà privata dovrebbe vigere anche a Bologna teoricamente la proprietà privata dovrebbe essere un diritto anche a Bologna il nuovo modello organizzativo dei controlli non può prescindere da un aggiornamento dell'apparato regolamentare che, come evidenziato già dal gruppo di supporto presenta lacune, manchevolezze e marcati caratteri di obsolescenza il processo di revisione dei regolamenti e l'adozione di disciplina di discipline al momento assenti appare non di rapida soluzione emerge in modo evidente l'esigenza però di superare tale criticità e fissare regole uniformi nei settori fondamentali e a tal fine si è ritenuto in primis di ripercorrere l'impianto normativo generale di riferimento e quindi di enucleare classificandoli rispetto all'urgenza dell'intervento i regolamenti rispetto ai quali intervenire e quali li elenco nella relazione volentieri li cito in ordine prioritario secondo regolamento dei contratti regolamento del sistema integrato dei controlli interni regolamento dei procedimenti amministrativi regolamento sugli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale regolamento degli uffici e servizi il regolamento di contabilità regolamento per il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni il regolamento della concessione di sussidi e contributi regolamento del corpo di polizia municipale locale regolamento per la disciplina dell'istituto del telelavoro per il personale regolamento di polizia urbana poi c'è il regolamento del patrimonio e il regolamento degli eventi questi sono alcuni dei regolamenti comunque il problema regolamentare va completamente preso rivisto, riesaminato rianalizzato e rivisitato non sfugge quanto questa crisi pesi sull'immagine della capitale sulla sua capacità di attrezzarsi per il futuro di rigenerarsi e recuperare il tempo, le occasioni le tante potenzialità e risorse sperperate non sfugge quanto importante si riveli l'elemento umano del comune in un percorso di ripristino della legalità primo ineludibile passo verso il rilancio dell'amministrazione in questo scenario lo scrivente si è impegnato per la via soluzione dell'avvertenza dei dipendenti comunali sostenendo la ricostituzione del fondo per il salario accessorio e la riapertura della contrattazione integrativa ancora più grave è il tema se si analizzano i dati dell'ufficio procedimenti disciplinari con riferimento a indagini di polizia giudiziaria afferenti a fatti specie concernenti reati contro la pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti capitolini sottoposti a misure restrittive della libertà personale sono stati adottati gli atti di sospensione cautelare dal servizio e sono stati attivati con essi procedimenti disciplinari al personale dirigente che risulta indagato nell'emore della definizione del procedimento penale è stato attribuito un diverso incarico rispetto a quello ricoperto nel periodo dei fatti contestati mentre il personale non dirigente è stato assegnato presso altri uffici di Roma Capitale anche al fine di consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività amministrative all'interno dell'amministrazione vediamo quali sono i provvedimenti che abbiamo adottato rispetto ai dipendenti che a vario titolo sono rimasti coinvolti in vicende giudiziarie particolarmente critica appare la situazione del personale dovuta anche a una significativa carenza di organico sia riguardo ai dirigenti sia al personale della polizia locale della scuola e di altri profili lavorativi un'analisi dettagliata non può prescindere dallo stato delle risorse umane che deve essere descritto senza mezzi termini negli ultimi 12 anni pur essendo aumentate le competenze il personale ha registrato una riduzione del 23,74% nei ruoli dei dirigenti e dell'11,77% negli altri ruoli che al 31 dicembre scorso 2015 presentano una carenza complessiva superiore ad un quarto dell'organico totale in questa situazione che diverrà direi esplosiva con le cessazioni che si avranno nel corrente anno è da tenere in massima considerazione soprattutto l'ambito della polizia locale dove la carenza oggi pare al 30,57% raggiungerà livelli che non consentiranno secondo me di assicurare i servizi pubblici grazie grazie